Ciao, sono Vittoria Gaglione, sono nata a Genova nel 1999 e mi sono trasferita a Roma a 18 anni, quindi ormai quasi sei anni fa. Sono anche sei anni che studio recitazione, gli ultimi tre e quattro ho frequentato dei seminari con Michael Margotta, che tuttora seguo, e ho fatto una serie, ho fatto una parte in una serie Rai, un film, il mio primo film che deve uscire, e qualche spettacolo a teatro diretto da Maria Letizia Gorga, con cui quest'estate abbiamo vinto anche il premio Spazio Giovanni al Teatro Lo Spazio. Parlo bene l'inglese, perché ho studiato sia la lingua che recitazione in America e a Londra, e poi sono più di 15 anni che faccio salto ostacoli, quindi equitazione, anche se ormai ho smesso collegare, però vado ancora, poi so nuotare, so sciare, ho fatto quattro anni box, quindi so boxare, e poi anche un po' di yoga e fitness. Da poco ho anche iniziato a prendere lezioni di canto, ma non mi sento ancora pronta, quando lo sarò, spero presto. Detto questo vi ringrazio e arrivederci!